Ciao a tutti, vediamo oggi due varianti di crunch utilizzando la Fluigol, questa simpaticissima, bellissima e molto interessante come attrezzo, palla contenente un fluido che durante l'esecuzione dell'esercizio fa in modo che i nostri muscoli stabilizzatori vengano coinvolti in maniera un pochino più intensa. Se vi piace questo attrezzo, se vi sarà piaciuto questo video, quindi anche gli esercizi che vi proponiamo, vi consiglio di andare nella descrizione di questo video, nella prima parte troverete un link per l'acquisto di questo attrezzo, di questa Fluigol e digitando la parola chiave Salute Flui potete anche accedere ad uno sconto speciale. Bene, divertiamoci e alleniamoci insieme con la Fluigol. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.